eccoci maestro maestro buongiorno gio come stiamo buongiorno richi bene tu com'è guarda che bel fondalino dove sei di bello sono nel mio studio nel mio studio musica oh che bello intanto grazie infinite di aver accettato il nostro invito e ho premuto un sacco per averti e abbiamo anticipato il tutto perché ho detto una chiacchiera con ricky me la me la me la voglio fare e quindi tanto veramente grazie 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 infinite per chi non lo sapesse chi appunto dopo come ti avevo detto ricky questa è una puntata in diretta ma dopo verrà caricata su facebook verrà caricata su youtube quindi avremo anche persone che la guarderanno poi e ricky chitarrista endorser insegnante vive il mondo delle sette note e 12 12 mettiamocene tutte ok e lo fa veramente 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 bene e orgoglioso di essere stato anche per poco tempo ma un suo allievo e le poche cose che so fatte bene le so sono per la chitarra perché le ho imparate da lui quindi questo poi e tutte tutto il resto per me e nebbia grazie saranno passate otto anni mamma mia sì anche qualcosa di più anche qualcosa di più anche 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 guarda non escludo che siano almeno dieci sì può essere dieci anni può essere veramente può essere veramente dieci anni e ricky quindi io ho il mio caffettazzo pronto bicchierino e quindi procedo già a farti la prima domanda che è un po una domanda di rito ed è il motivo per cui esiste il movie bar che è un po far raccontare a voi la vostra la vostra realtà la vostra vita i vostri successi i vostri le vostre difficoltà i vostri ostacoli ed è del chiederti quando è cominciato il tutto per te musicalmente musicalmente è iniziato se parliamo proprio degli inizi con la musica in il mio contatto con la chitarra è iniziato vabbè a 12 anni però devo dire che è stato un inizio travagliato perché inizialmente volevo essere batterista eh sì eh sì questa è una cosa che che è stato proprio il fascino che ho subito andando ad un concerto eh nel conservatorio di Vicenza dove la parte di batteria era talmente bella che mi ha lasciato folgorato perché a quel punto lì sono impazzito per la batteria volevo a tutti i costi iniziare la batteria soltanto che c'erano dei problemi perché la scuola più vicina stava ristrutturando le aule per cui insomma risultava eh complicato fare lezione nell'immediato per cui cosa è successo aspetta oggi aspetta domani insomma il tempo passava ha cominciato a appassionarmi alla chitarra ok anche lì però è stata veramente lunga la faccenda nel senso che prima ho ricevuto dei regali del cazzo chitarra di plastica un vero abrobrio che si chiama festa rock è una cosa vergognosa che però all'epoca mi era anche piaciuta e praticamente trattasi di una chitarrina giocattolo che credevo avesse le corde invece non aveva veramente le corde erano soltanto disegnate sopra in verità c'erano dei pulsantoni da premere e questa cosa qua insomma è stato per per un po di tempo un palliativo la chitarra vera e propria e quindi ho dovuto ulteriormente aspettare secondo me questa attesa che raccontate sembra anche abbastanza inverosimile invece ha avuto un effetto molla per cui poi quando sono partito con la chitarra classica a 11 12 anni più o meno sono partito motivatissimo per cui i primi anni sono stato veramente in proprio totalmente catturato prima ero un gran disegnatore non so che fosse un bravissimo disegnatore ma so che disegnavo tantissimo certo ma è arrivata la chitarra praticamente ha spazzato via il disegno ed è rimasto soltanto soltanto la musica per cui è stato folgorato per tutti gli anni del delle medie del liceo mi sono dedicato a quello quindi sei partito in modalità guitar hero praticamente tu ricchi c'è il tuo approccio con la chitarra giusto quindi i pulsantoni guarda è la cosa più simile a guitar hero in effetti grande e sì sì ma era veramente una brutta roba nel senso che aveva oltre i pulsanti sulla tastiera aveva anche degli ulteriori pulsanti dove ci sarebbe dovuto essere il pick up ognuno dei quali emetteva una melodia già completa ok in più in tutto questo c'è una simileva del vibrato che permetteva di modulare queste melodie preconfezionate e diventava una vera schifezza quindi questo è stato l'imprinting ecco per fortuna poi è stato dimenticato non so più neanche dove sia forse sarà stata data alle fiamme non lo so comunque il percorso e sei riuscito a innamorarti della chitarra nonostante questo nonostante tutto ti sei innamorato ti sei innamorato grandissimo Ricky e quindi c'è nel senso tu mi stai dicendo che non è stato neanche un colpo di fulmine col mondo della musica arrivato tramite la chitarra ma sei passato batteria chitarra di dubbia provenienza che possiamo bypassare insomma direttamente a chitarra elettrica e la tua formazione dopo Ricky dov'è che percorso hai fatto lì cosa è successo che ho fatto un percorso da una parte privato di chitarra elettrica dall'altra dopo un primissimo anno come tutti si inizia con la chitarra classica in cui in cui si strimpelli le prime cose con impostazione classica ma devo dire che il primo anno già io volevo fare chitarra elettrica e ho fatto una cosa che per un insegnante di chitarra classica è veramente fonte di dolore psicologico cioè avevo attaccato i porta plettri direttamente sulla spalla della chitarra classica se ci ripenso adesso mi vengono i brividi è veramente una porcheria incredibile comunque l'ho fatto e mi ricordo che suonavo già i pezzi degli SDC mentre l'insegnante di chitarra classica era fuori dall'aula tornava e mi trovava a suonare col plettro stava male poi mettevo giù il plettro suonavo con le unghie e quindi ho fatto un primo anno di chitarra classica un tempo dall'anno successivo ho cominciato a fare elettrica poi sono tornato a fare simultaneamente chitarra elettrica e chitarra classica però questa volta in conservatorio ok fino al punto in cui a 19 anni ho dovuto decidere nel senso che ero arrivato al punto di studiare con uno dei più grandi chitarristi classici viventi che è Stefano Grondona fortunatamente insegnante del conservatorio di Vicenza il quale ovviamente per il mio quinto anno richiedeva cinque ore di studio al giorno e dall'altra parte dall'altra parte ovviamente la chitarra elettrica quindi mi sono trovato un pochino a dire ok tutte e due non possono coesistere devo fare una scelta in tutta amistà e a quel punto ho scelto la chitarra elettrica che è stata comunque il mio bivio fortunato ma dimmi una cosa Ricky che ti interrompo un secondo ma così mi togli anche una cosa che io avendo lavorato in un negozio di strumenti musicali mi dici cosa ne pensi tu a riguardo è giusto secondo te il fatto di approcciare il mondo della chitarra sempre attraverso la chitarra classica cioè io vedo anch'io lo facevo era un sai mio figlio comincia a suonare tu li piazzi sto manico alto 20 centimetri con queste corde che sono le pigi bene ti viene fuori un rumore che neanche una grondaia percossa lo trovi come corretto oppure per i piccoli sognatori chitarristi un bel chitarino elettrico potrebbe un'acustica potrebbe essere anche più di stimolo guarda questa è una cosa che ho affrontato proprio countless times nel senso ne ho sempre parlato perché ovviamente il rito vuole che il primo strumento sia sempre più quello classico però va bene chiaramente se stiamo parlando di uno studente adulto che inizia da adulto a suonare la chitarra il problema si pone relativamente però per un bambino che magari ha le mani piccoline dargli lo strumento con la tastiera più larga che ci sia secondo me è proprio contro intuitivo al massimo ah ok ok perfetto no assolutamente io di mio parto dall'idea che la chitarra classica possa essere uno strumento più interessante dell'acustico se poi si vuole sviluppare ovviamente il repertorio classico con la tecnica classica e allora lì ci mancherebbe è lo strumento che bisogna avere oppure un repertorio che comunque valorizzi quella timbrica e quindi che giustifichi la scelta del strumento quindi se voglio fare bossa nova repertorio brasiliano ovviamente poi con varie sfumature che ci possono essere stilistiche in cui c'entra la chitarra classica altrimenti la chitarra acustica è secondo me la soluzione più facile perché eviti ovviamente di fare un acquisto soprattutto nella prima fase in cui non si sa se la passione è un fuoco di paglia oppure una cosa in duratura evito di avere l'acquisto dell'amplificatore e della chitarra elettrica mi porta a casa uno strumento che mi suono anche sul divano e sono contento così ed evito di far soffrire ste povere manine certo no no infatti ti ho interrotto scusami intanto salutiamo luca biscotto che ci ha salutato che in realtà svegliamo il backstage lui è a due metri da me però lo salutiamo anche attraverso instagram ma io non lo vedo per cui lo saluto esatto stefano cecchinato che ci saluta richi ti ho interrotto che eri al bivio quindi scelta la parte elettrica mi hai detto a livello di di studi sì esatto diciamo che poi da subito dopo la maturità perché stiamo parlando dei 19 anni è subentrato forte l'elemento invece universitario e devo dire che col senno di poi avendo fatto il quinquennio di psicologia del lavoro ho avuto uno stop un quasi stop con la musica nel senso che ho continuato a portare avanti tutto però con ritmi molto più blandi perché la mia via era quella di fare l'assistente il professor universitario in seconda battuta e cosa è successo che se io analizzo adesso quel quinquennio dico forse ho rallentato di cinque anni il percorso che avrei potuto fare musicalmente però poi sai col senno di poi chi può dire che non sia in verità stata la cosa migliore far quel periodo che mi abbia dato delle altre conoscenze delle altre degli altri input praticamente cosa è successo che in quei cinque anni ho fatto una chitarra di mantenimento ok ok per cui c'è stato un forte rallentamento dell'investimento da quel punto di vista ok però poi quando quando le cose devono andare in un modo vanno devono andare esatto e quindi a partire dal quarto anno e poi sempre più forte verso il quinto anno mi sono reso conto che forse la cosa per cui più volentieri avrei affrontato degli ostacoli e per cui mi sarei svegliato più carico la mattina sarebbe stata la musica più che la psicologia certo e allora niente e allora lì finito il percorso perché comunque ho voluto concludere il percorso di laurea poi sono partito molto carico e mi sono iscritto al cpm di milano dove ho studiato con luca colombo e lì è stato un percorso breve ma comunque intenso breve perché perché loro prevedevano un triennio di un in quel caso di indirizzo pop rock fusion e con l'esame di audizione potevano già stabilire se tu fossi al primo secondo terzo anno io sono stato ammesso al terzo anno e quindi di fatto quel terzo anno è stato il mio unico anno dopo di che ho preso il diploma essenzialmente al cpm e quindi lì diciamo si conclude un pochino la mia formazione pop ok l'anno dopo invece a quel punto lì non stavo più studiando privatamente ok ero abbastanza autosufficiente esatto in quel momento lì però cosa ho fatto sono sono andato a fare un seminario estivo a siena jazz ok e lì ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio che mi ha permesso di rifrequentare l'anno successivo cosa è successo che subito dopo quest'estate ho potuto partecipare sempre tramite audizione a questo corso che secondo me non verrà mai più ripetuto nella storia di questo pianeta cioè è l'injam è proprio l'international jazz master ok che praticamente è stato organizzato sempre da siena jazz ok un evento con un fortissimo investimento da parte della banca monte dei paschi ok questo pre crollo pre crisi bancaria è una cosa che non succederà più no non sa ma non non avrebbe avuto luogo se non ci fosse stato questo investimento stiamo parlando di centinaia di migliaia di investimento praticamente ogni mese c'erano quattro giorni in cui studiare con i più grandi nomi del jazz cioè da john aber crombie kurt rosa winkle mark tarner eddie gomez jeff ballard cioè veramente rufus reed cioè una valanga di nomi internazionale per lezioni sia di gruppo sia individuali quindi è una cosa veramente veramente unica e devo dire che lì è stata una formazione veramente tosta perché diciamo che oltre agli insegnanti che erano di prima di primissimo livello anche chi anche chi era stato ammesso era veramente forte nel senso che c'erano soltanto 50 posti per tutta europa e sì sì e quindi eravamo un numero limitato di chitarristi eravamo cinque e attualmente buona parte degli studenti di quel corso sono tra i nomi di spicco del jazz contemporaneo chi è rimasto ovviamente nel nel filone jazz da cui io in termini mainstream mi sono un pochino allontanato per dire nomi come chiaramente per chi segue bene segue il genere nomi come alessandro alzoni francesco di odati gabrile evangelista sono tutti quanti compagni di corso che adesso sono diventati parte stabile del del new quartet di enrico rava che suonano a livelli altissimi quindi veramente veramente bello e quello è stato il corso che io ho seguito per un anno e alla fine alla fine del quale ho fatto quell'ulteriore estate che era la borsa di studio dell'anno precedente e quindi diciamo che lì ho avuto una forte forte spinta dal punto di vista del jazz e poi un pochino devo dire che mi sono affermato nel senso che ho fatto lezioni sporadiche con altri ma poi devo dire che quello che ho imparato è arrivato soprattutto dalle dei contesti lavorativi certo certo ovviamente sono la vera scuola cioè voglio dire è chiaro che come scuola guida sì ma infatti infatti qui anche qui ricchi visto che tu sei musicista insegnante e quanto secondo te va messo sulla bilancia la parte formazione studio ma anche quella che dopo è la parte più pratica quindi nel senso farsi l'esperienza ma soprattutto anche quanto conta a tuo avviso la qualcosa che non si può imparare che quindi è proprio quell'estro il lato artistico che ognuno di noi ha cioè se tu dovessi farmi un podio delle tre delle tre realtà per un cocktail corretto che che dosi utilizzeresti in un o che vedi in te anche allora guarda senza fare un discorso autobiografico perché poi è chiaro che ognuno ognuno fa caso a sé e per quello è difficile anche darti delle percentuali però diciamo che quello che l'insegnante può fare è stimolare la tua creatività ma non può fare di te un creativo certo ed è per questo che ci vuole anche una buona dose di curiosità la passione stessa per creare che non tutti per forza devono avere quindi c'è chi rimane un ottimo esecutore e che sviluppa una sensibilità senza dover poi essere un creativo però diciamo che al contempo c'è chi arriva anche appunto a lezione che arriva già con un sacco di domande un sacco di ascolti un sacco di assoli cercati in maniera autonoma di informazioni comunque captate da varie fonti poi oggi è anche facile andare a riferire certo esatto e quindi diciamo che la creatività può essere punzecchiata ok io ti posso dare delle informazioni anche perché poi cosa succede che a volte pur avendo fatto magari un percorso comunque autonomo di ricerca c'è chi arriva ad un certo punto e si trova un po bloccato allora ecco che un input esterno con vocabolario diverso con delle informazioni teoriche diverse con delle esperienze professionali diverse possono andare a pungolare la creatività è chiaro che quindi questo per quanto riguarda il ruolo magari dell'insegnante nel stimolare qualcuno che magari in quel momento ha un piccolo blocco creativo però è chiaro che ci deve essere proprio una componente individuale poi l'insegnamento cioè l'apprendimento di competenze è fondamentale è fondamentale ovviamente poi contestualizzato ai diversi settori nel senso che un bluesman ha bisogno di competenze che sono diverse da quelle del jazzista che magari a sua volta delle esigenze per esempio timbriche sonore di strumentazione che sono diverse dal turnista pop quindi non si può neanche troppo generalizzare cioè ogni contesto ha il suo i suoi tools come dire no quindi l'approccio dovrebbe essere proprio quello del problem solving dove vuoi arrivare da qui fin qui bene allora da qua fin qui ti servono queste cose queste informazioni qua certo e poi però arriviamo al punto in cui esattamente come alla scuola guida dopo aver imparato la teoria e comunque messo un pochino messo un pochino in pratica i primi movimenti capito i pedali e il volante come funziona preno frizione seconda dopodiché a un certo punto bisogna procedere ed è soltanto la strada la strada capisci è la strada che ti insegna che cosa funziona e soprattutto le conoscenze che vengono messe molto in pratica vengono consolidate vengono scremate poi è chiaro che ci sono tutta una serie di cose che si imparano solo con la pratica la gestione della pressione di un live imparare tutta una serie di cose che hanno a che fare con la professionalità che non riguardano necessariamente soltanto il fatto di emettere musica quindi la puntualità la preparazione dal punto di vista dell'equipment quindi sapere che di poter contare su strumenti affidabili sapere insomma di avere i suoni giusti per l'occasione giusta certo certo tutta una serie di cose che appunto anche anche umanamente si sviluppano in maniera diversa avere la pazienza per alcuni contesti dove magari bisogna aspettare tre ore e poi di colpo tra secondi bisogna essere super attivi perché si sta subito andando in prova velocemente col massimo stress ok quindi ci sono ovviamente dipende dal contesto io posso parlare per esempio vabbè sì sicuramente del contesto fusion che è un settore che amo però anche del settore turnistico dove ci sono a volte delle situazioni di forte pressione perché appunto magari si va in diretta magari appunto i tempi stringono e bisogna concludere e lì bisogna però per contro essere un pochino zen e riuscire a superare dei momenti in cui ci sono attese e ovviamente il lavoro di squadra quello sicuramente quindi capire anche come collaborare costruttivamente con gli altri come saper capire se una persona è un pochino tesa sotto stress quindi fare in modo di calmare le acque per lavorare meglio piuttosto che il contrario quindi ecco anche questo fa parte di quella famosa strada e mi sembra appunto parlando di strada ricchi tu di strada per ora ne hai ancora da fare ma ne hai fatta e quello che mi viene da chiederti è se tu dovessi guardare indietro dallo specchietto retrovisore quello che è stata la tua strada e essendo tu un chitarrista che ne so fossi stato un suonatore di viola da gambas poche 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 realtà sai uno dice c'è bisogno c'è richiesta ti vanno a pigliare cioè di chitarristi ce ne sono un sacco dagli amatoriali e semiprofessionisti e professionisti cos'è che secondo te ha differenziato la tua strada cioè nel senso fino a dove sei arrivato tu adesso che comunque c'è stiamo parlando tv turnista non alle sagre dell'araceli o quant'altro ma nel senso stiamo parlando di situazioni importanti cos'è che ha portato questa strada a diventare così per te secondo te c'è proprio una cosa tua che ti vedi guarda per me una cosa che ha aiutato tanto è stata la versatilità nel senso che a me è sempre piaciuto tanta musica non ho mai avuto diciamo settorialità musicalmente ho sempre stato curioso tutta la musica è bella se suonata bene se suonata in maniera ispirata a parte un paio di cose che proprio non mi vanno giù poi per il resto sono quasi onnivoro musicalmente e questa cosa probabilmente è stata una grande fortuna nel senso che il fatto di non riuscire a concentrarmi solo su una cosa mi ha portato a sperimentare tanti stili diversi appunto il percorso pop il percorso sono nato rocchettaro mi sono appassionato tantissimo al jazz ho avuto appunto anche il percorso classico queste cose confluite mi hanno permesso di affrontare probabilmente senza preconcetti magari con un pochino più di un po' più calato nella parte i vari stili quindi diciamo che soprattutto per quanto riguarda le chiamate turnistiche questo mi ha permesso di poter suonare in situazioni che ne so con Paolo Belli dove di fatto si suona uno swing da big band oppure situazioni più pop, rock come mi è capitato di fare nelle trasmissioni e quindi diciamo ecco il fatto è fare tanta musica diversa perché ovviamente è anche il mercato turnistico italiano che è strutturato un pochino in questa maniera negli Stati Uniti è un po' diverso riescono a concentrarsi di più anche soltanto su un genere e avere comunque molto da fare con l'Italia bisogna essere un po' gioglio un po' di tutto fare e quindi la curiosità mi ha aiutato poi l'altra cosa è quella di sfruttare le occasioni il che non vuol dire sfruttare le occasioni in maniera opportunistica ma nella maniera più banale del mondo ti capita una buona occasione ti presenti preparato fai in modo che le persone amino quello che tu stai suonando e abbiano piacere che tu sia lì con loro in modo tale ad essere chiamato al prossimo lavoro chiaro, questo è giustissimo, bravo è la cosa più banale del mondo semplicemente di dire se tu semini bene poco alla volta c'è un passaparola che si costruisce e che ti porta a salire ovvio che ci sono poi degli incontri che possono essere più produttivi di altri però non bisogna mai ecco snobbare le varie occasioni ci sono le occasioni che da subito si capisce che sono occasioni importanti e delle altre occasioni che magari sembrano meno importanti e però magari dentro quelle occasioni meno importanti c'è una persona che fa da tramite per qualcos'altro di decisamente più rilevante quindi diciamo che è un pochino il fatto di cercare di suonare sempre con uno standard elevato senza mai trasformarsi in in marchettari ma non perché sia una marchetta quello che stiamo facendo perché l'importante è non mai avere l'atteggiamento di sufficienza rispetto a quello che stiamo facendo e tirare indietro certo grande Ricky ma soprattutto per la parte in cui tu giustamente dici cioè saper sfruttare le occasioni non leggendo questa frase come una situazione da opportunista ma sapersi che alla fine è il sinonimo di sapersi buttare sapere ogni tanto chiudere gli occhi andare avanti di cuore per cercare anche di sfruttare al massimo le occasioni che ci si parlano davanti beh sì è chiaro che bisogna uscire anche dalla propria zona di comfort certo cioè nel senso da un lato ci sono delle cose che arrivano e che noi dobbiamo saper sfruttare dall'altra è chiaro che ci sono delle situazioni in cui ci dobbiamo appunto un pochino buttare noi nel senso che fa parte della crescita è chiaro che ogni step in qualche modo ci porta a fare delle cose su cui non ci sentiamo al 100% sicuri l'importante è comunque quello di sapere che l'evoluzione passa dall'uscita della propria zona di comfort e quindi bisogna essere ovviamente in grado anche di incamerare un pochino di stress per le situazioni importanti che si creano e conviverci sapendo che è parte della quotidianità di chi fa questo tipo di lavoro quello assolutamente e Ricky una cosa e questa strada hai mai pensato di fermarla hai avuto mai dei momenti in cui hai detto non so se riesco a continuarla per tua motivazione o per motivazioni esterne allora diciamo di fermarla mai nel senso che non ho non ho mai avuto l'idea del beh se non ce la faccio faccio qualcos'altro cioè forse forse una fortuna forse un limite ma io non ho mai pensato questa cosa potrebbe potrei anche non farcela cioè non mi sono mai posto proprio in quest'ottica nel senso ovviamente nessuno ha sfera di cristallo nessuno sa quanto bene potrà andare ma non ho mai messo in dubbio il fatto di dire ok se non va bene entro due anni se non va bene entro tre anni che poi questo bene bisognerebbe anche definire cosa vuol dire andare bene cioè bisogna vedere quali sono i goals che uno stabilisce sia in posto certo però non ho mai non ho mai pensato se entro tot non succede tot non succede questa cosa faccio dell'altro non ho mai avuto questo tipo di impostazione però va anche detto che negli anni sicuramente sono emerse tante tante cose parallele ovviamente anche alla musica che mi incuriosiscono e che comunque voglio sviluppare il che non significa che queste debbano comportare comportare la fine della musica nel senso negli anni mi è capitato ho avuto la fortuna di poter fare anche molto lavoro come speaker per pubblicità mi ricordo che mi dicevi certo e questa cosa diciamo che è una cosa che non toglie spazio alla musica però mi interessa portarla avanti assieme alla musica assieme strade parallele sì diciamo che più ci si orienta verso la possibilità di dover prendere un exit strategy ok di avere in mente una via di uscita un'uscita di emergenza e secondo me meno convinti si procede meno convinti si procede quindi diciamo che ecco non partirei con con l'idea di di avere per forza delle cartine tornasole certo 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 e entro sempre in un'altra domanda abbastanza diritto per quello che mi riguarda perché mi piace sempre sentire le risposte che che cosa diresti a chiamiamola come piccolo filone e la prima che cosa diresti a è che cosa diresti tu Riccardo di adesso quindi 9 giugno 2020 a il Riccardo di una decina di anni fa sapendo sapendo però che cosa è successo a Riccardo che è adesso gli diresti guarda aggiusta il tiro in quella situazione lì lascia stare quella parte lì o come dico sempre io gli daresti una bella pacca sulla spalla dicendo oh divertiti goditi tutto perché dove siamo arrivati è figo quindi goditela tutta guarda gli direi di dormire di più dormire di più mangiare meglio diciamo che allora se mi fossi trovato di fronte a delle situazioni di forte criticità forse avrei più cose da dire almeno di 10 anni fa certo nel senso che è chiaro che se adesso col senno di poi avessi visto il naufragare contro uno scoglio dritto contro un iceberg ecco adesso magari mi troverei a dire guarda non fare questo non fare quello ha giusto il tiro certo la verità la verità è che per fortuna e ovviamente anche per energie investite le cose sono andate sempre meglio certo non mi posso veramente lamentare di come si sono evoluti gli ultimi 10 anni perché appunto gli ultimi 10 anni sono quelli appunto della mia carriera ha avuto un crescere continuo per cui ecco per carità tutto può essere forse avrei potuto andare all'estero come tante volte c'è la tentazione di fare perché ovviamente ci sono culture diverse con una apertura tu sei rimasto sempre qua no Ricchi giusto non ti sei spostato più di tanto assolutamente no sono rimasto sempre a Vicenza pur magari avendo fatto lavori che erano a volte a Milano a volte a Roma a volte girando insomma anche per periodi stabili poi è chiaro che appunto la tournée ti porta in giro però diciamo che sono sempre tornato a Vicenza perché comunque mi piace il contesto il contesto della città di piccole e medie dimensioni difficilmente sarei ben disposto a passare di default un'ora nel traffico per andare un'ora nel traffico per tornare ogni giorno in automatico qualsiasi sia la distanza da percorrere quindi no sono sempre rimasto a Vicenza e ecco credo continuerò a farlo al momento è chiaro che poi tutto può essere però ecco l'estero ovviamente ha un grandissimo fascino perché perché appunto si percepisce che c'è un rispetto per il musicista diverso di rispetto a quante tante volte c'è in Italia e devo dire che questo periodo purtroppo è la dimostrazione massima di questo di questa problematica certo cioè sappiamo tutti quanto la categoria della cultura non ne faccio neanche un discorso riferito ai musicisti sappiamo quanto la categoria della cultura in generale certo sia stata snobbata e quindi in questo momento siamo penalizzati e visti nella nostra nel nostro apportare un elemento non materiale alla sussistenza della società ovviamente dimenticando quanto sarebbe stata cioè vuol dire proviamo a togliere i libri la musica il film è vero è vero il teatro questa quarantena sarebbe stato un suicidio per tutti è vero e di solito le persone che minimizzano diciamo la l'incidenza della cultura nella vita quotidiana sono magari gli stessi che venono al musicista come automaticamente relegato al suo al suo al suo a veste di piano barista e poi sono quelli che se dovessero mai incrociare boccelli o sting per strada si butterebbero per terra per avere un ortografo quindi c'è proprio quasi una questa strana dicotomia tra quelli che sono i miti della musica quindi il concetto dell'arte e poi il musicista e il lavoro del musicista esatto è come dire ci piace quello che fate ma non ci piacete voi è triste è triste però è vera è triste è triste è triste è triste ma vera questo sì e continuando il filone che cosa diresti a che cosa diresti ricchi a una persona che giovane meno giovane che sia che vuole intraprendere la strada dell'insegnante dalla chitarra a qualsiasi esso sia lo strumento che consiglio vorresti dare allora diciamo che una cosa è quella la prima cosa credo è quella di essere onesti nel senso si dovrebbe andare ad insegnare quello che veramente si sa è chiaro che poi l'insegnamento stesso aiuta a far chiarezza come sempre quando dobbiamo spiegare qualcosa a qualcuno siamo costretti a razionalizzarlo e asciugarlo concettualmente quindi è chiaro che noi stessi miglioriamo man mano che insegniamo però il musicista dovrebbe diventare insegnante al livello che veramente padroneggia e dopo un po' di esperienza non dovrebbe esserci troppa fretta di diventare subito insegnanti anche perché soprattutto nel caso di alcuni contesti come quello vocale si rischiano di fare dei danni importanti quindi lì appunto è un organo più delicato di quello che è più delle mani e quindi bisognerebbe andare veramente con il piede di piombo anche chitaristicamente ovviamente bisognerebbe essere sì non troppo vicini al livello che si sta insegnando e poi chiaramente l'idea è quella di avere amore per la chiarezza e amore in un certo senso per la struttura quindi bisogna banalmente però è fondamentale questa cosa aver voglia di trasmettere le informazioni perché anche il musicista performer molto forte che però fa lezioni per necessità e si trova ad affrontarle con sufficienza con svogliatezza fa un pessimo servizio eh sì è vero quindi diciamo che l'insegnante deve avere secondo me amore anche per l'insegnamento a me è sempre piaciuto trasmettere informazioni e comunque mi è sempre piaciuto anche dare una struttura cercare di di rendere semplici alcune cose che sembrano difficili se spiegate male è un po' questo anche il motivo per cui al netto di tutte le informazioni che si possono ottenere da internet dai libri ovviamente è stato ripetuto milioni di volte quanto ci sia sovrabbondanza di materiale didattico sì uno rischia anche di persino c'è troppa perfino troppa roba uno potrebbe passare tutto il giorno a spulciare video tutorial di questo di quello e sarebbe come una barca che continua ad andare a zigzag senza avere una direzione ecco il ruolo dell'insegnante a volte è anche quello pur sapendo che chi studia ovviamente va a spulciarsi vari tutorial oppure libri e testi dovrebbe essere una specie di coach che mette insieme tutto quanto e lo personalizza e cercando di non creare confusione soprattutto perché tante volte ci sono tantissimi argomenti su cui si crea inutilmente confusione confusione certo l'insegnante se riesce a diventare un semplificatore secondo me sta facendo bene il suo lavoro ma infatti dicevamo avevamo iniziato la chiacchiera che appunto io dieci anni fa adesso decidiamo che erano dieci anni e io posso garantirti che quello che riuscivi tu a trasmettermi oltre al lato più prettamente tecnico e nozionistico era questa ma proprio c'era un emanavi quest'aurea di tranquillità di voglia di guidare in un modo corretto e personalizzato appunto quindi una cosa un po' confezionata su misura per me che potevo se ti ricordi in quel momento io stavo suonando ad esempio assieme a un altro tuo allievo che salutiamo Riccardo Rizzo ad esempio assolutamente e mi ricordo che confrontandoci tra di noi tu riusciri a darci due entità di insegnamento diverse ma perché eravamo due persone diverse due e anche ragazzi che vivevano la chitarra in un modo diverso e penso che quello si e poi mi ricordo la camera tua la stanza dove si c'era tutto molto e andavi via che avevi le idee chiare cioè nel senso non ne sono mai andato da te dicendo che cazzo mi ha detto adesso come si fa questa roba no questo mi fa molto piacere perché appunto l'idea garantisco per chi guarda il video che ormai chissà quanti quanti ti conoscono come insegnante e quindi quindi sì veramente ancora chapeau grazie e ultimo quindi il cosa diresti a che è il cosa diresti a colui o colei che ha voglia di intraprendere una carriera lavorativa con la musica quindi non sotto un punto di vista didattico ma di performance dal vivo o non dal vivo ecco tutto quello quindi lo strumento suonato allora diciamo che il filone artistico è un filone per cui si fa un certo tipo di ragionamento quindi chiaramente significa scrivere i propri pezzi proporsi ovviamente adesso ci si propone con video si cerca di farsi conoscere appunto su web e poi si cerca ovviamente di arrivare a chi può effettivamente distribuire quella musica promuovere quindi veramente quello è un percorso in cui una persona si deve armare di una sconfinata passione che per logica dovrebbe esserci fendere all'inizio certo e di testardaggine certo e quindi i miei consigli in questo caso sono un pochino più raccolti e sono soprattutto il fatto di crederci molto se uno vuole farlo in quei termini ci deve credere tantissimo per quanto riguarda invece il discorso del turnismo quindi l'idea di suonare musica altrui significa da un lato crearsi una preparazione il più completa possibile il più completa possibile che non significa enciclopedica però avere un tot di conoscenze in modo tale da non essere relegati a saper suonare una nicchia molto bene una nicchia musicale ma avere comunque l'elasticità di potersi confrontare con varie richieste che possono esserci per esempio se c'è non dico una trasmissione ma una serata con vari cantanti ospiti e sia band orchestra residente è chiaro che gli stili possono essere molto diversi bisogna saper fare una serie di cose saper ottenere saper suonare credibilmente diversi linguaggi avere la strumentazione giusta sapersi confrontare con uno spartito che sia un siglo che sia notazione pentagrammata avere quel tipo di competenze nello specifico e poi anche lì bisogna soprattutto avere la voglia di suonare in tanti contesti e mettersi alla prova in tanti contesti anche quelli minori perché appunto come dicevo prima a volte è proprio dei contesti minori che si crea quel giusto passaparola che quella catena di contatti che ti dà la spinta giusta certo esattamente quindi all'inizio la cosa migliore è prendere i lavori cercare di suonare in tutti i contesti con la stessa convinzione e la stessa professionalità e poi le cose si evolvono da sole l'ho visto per tantissimi non parlo soltanto di me stesso l'ho visto per tantissimi colleghi si tratta proprio di di mettersi appunto sempre al servizio della musica suonare sempre al top e poi le persone ti richiamano esatto e ricchi appunto quindi a fianco di solito normalmente a fianco al passaparola c'è sempre l'altra strada che è la strada un pochettino passami il termine più pubblicitaria e come ben sai io ho uno studio di comunicazione studio creativo chiamalo come vuoi e come vivi tu il questo discorso cioè nel senso tu per te stesso quanto hai investito quanto sai che devi investire quindi che ne so sai i video sul canale youtube la pagina facebook instagram curata con le stories per far vedere dove si è è una cosa che tu credi che debba andare sempre a fianco a quello che è il passaparola quindi una cosa più umana investi anche tu su questo lo consigli a chi vuole mostrarsi deve mostrarsi al mondo esterno eccetera allora assolutamente è chiaro che bisogna prendere atto del fatto che viviamo in un certo periodo storico certo e che lo standard in questo momento è che le persone fruiscano musica dal telefono dal computer certo e questo significa che tante volte la musica deve essere mostrata e quindi è necessario che se si vuole far sentire quello che si sta che si sta producendo farne appunto un video qualcosa che possa essere fruito visivamente quindi sicuramente è importante io personalmente non sono non sono un martellante da questo punto di vista e però devo dire che pubblico esclusivamente materiale musicale per cui diciamo che tutta la mia presenza su sui vari social su internet in generale è esclusivamente musicale per cui quello che mostro è sempre soltanto appunto una performance o uno spunto musicale da questo punto di vista quindi non mi sottraggo non sono ossessionato da questo ma comunque non mi sottraggo nel senso che effettivamente se stiamo facendo delle cose che ci piacciono e che pensiamo possono essere di interesse anche per altri perché non mostrarle la cosa importante diciamo è che non succeda perché soprattutto nei musicisti giovani questa cosa qua la vedo molto che non ci sia il sostituire l'attività dal vivo con l'attività video soprattutto in casa propria cioè quindi il problema qua è il fatto di pensare che mostrarsi e mettersi in vetrina sui social sia in qualche modo un compensare una mancanza di live ecco no certo cioè è chiaro che le due cose insieme producono il massimo di risultati ma trasformare la generazione attuale di ragazzi dai 18 ai 25 anni in questa prateria sconfinata di musicisti che registrano una vita in casa propria ecco non è quello che secondo me serve al mondo della musica servono performer servono persone che sappiano stare sul palco e che anche siano in un certo senso oneste da questo punto di vista nel senso che poi chiaramente vedo che sempre di più prende piede anche il fatto di ritoccare i video nel senso ritoccare le performance editare il proprio audio ci sono anche delle diatribe proprio su Instagram abbastanza feroci su chi sta raggiungendo una notevole popolarità con dei video che sono poi che si è visto che sono di fatto ritoccati ritoccati certo quindi ecco questo è un pochino una cartina torna sole di quanto magari si stia un po' esagerando nell'investire soltanto sulla propria immagine in tutte le cose cercare di bilanciare in modo corretto quello che si fa alla fine assolutamente però è chiaro che è importantissimo perché se ognuno fa cose stupende ma rimane chiuso nel proprio guscio magari finché non ha occasione di poter salire su un bel parco che sia da solo una vetrina per quello che quella persona sa fare è chiaro che è più che giusto farsi conoscere io stesso lo consiglio ai miei studenti magari ho degli studenti fortissimi a cui dico guarda suoni bene è un peccato che nessuno ti senta suonare perché le persone non sentendoti suonare magari non sono incuriosite e non ti chiamano e non ti chiamano solo perché non ti conoscono perché non ti conoscono esatto esatto se ti conoscono se ti chiamerebbero e quindi no è appunto il balance delle due il giusto il giusto compromesso Ricky planiamo pian piano verso la fine passando anche nella zona più frivola della chiacchierata e come domanda frivola che proprio mi è venuta così al volo è la canzone che non suoneresti mai cioè la canzone che anzi dai così la canzone che ti sei stufato di suonare però ti tolgo Smoke on the Water perché sennò sarebbe il classico marchettone a livello di rispetto chitarrista ti dico la verità che non ho mai suonato Smoke on the Water dal vivo in vita mia quindi non mi sono mai trovato no e ti posso dire che ci sono canzoni che non avrei mai pensato di suonare e che di mio non avrei mai voluto suonare però mi è capitato di suonare Despacito però con lui sponso attenzione attenzione è stato nella se non sbaglio oddio era la prima o la seconda edizione di Music con Paolo Bonolis con Paolo Bonolis esatto e lì è stato ospite nostro o nostro della trasmissione è stato ospite Luis Fonsi ok e con lui abbiamo suonato Despacito e più Against All Odds ok un pezzo di Phil Collins bellissimo devo dire che Despacito è quello che è certo ma lui è stato talmente bravo tranquillo si si stavo pensando una cosa ma è che lui è stato veramente il pezzo è quello che è il pezzo ho avuto modo di odiarlo ma lui si è dimostrato un professionista e un cantante talmente forte che devo dire ho dovuto totalmente rivalutare quello che era il mio approccio nell'ascolto di Despacito quindi anche perché poi ha cantato il pezzo di Phil Collins da paura e poi conoscendo meglio il personaggio ho scoperto che non è il fenomeno venuto fuori dal nulla che si era con quella canzone dal nulla era una carriera della madonna la sua storia la sua strada l'ha fatta tornando al discorso della strada di prima con una gavetta con una gavetta importante per cui ecco dai diciamo che non c'è un pezzo che proprio detesto ti dico la verità ci sono dei pezzi del jazz che magari non sono particolarmente volentieri perché sono veramente troppo troppo abusati però sì però ecco voglio dire non stiamo parlando di Maracaibo no grande e appunto prima hai citato Bonolis quindi ecco ne hai fatta di palchi ne hai calcati di situazioni chiamiamole grosse tanto un attimo per generalizzare ne hai fatte ma se te ne dovessi chiedere una così proprio boom boom esplosiva di quelle che ti ha lasciato che avevi le palpitazioni a due eventi che dici portami era questa non me la dividi cioè la situazione della vita che dici allora in verità non ce n'è una ce ne sono varie immagino certo ce ne sono varie perché magari ci sono stati dei live di fronte a veramente tanta gente mi ricordo uno dei primi live veramente grossi che ho fatto con i ragazzi del cast di X Factor era il Capodanno 2011 e lì ero di fronte a 30.000 persone e mi ricordo che in particolare la seconda canzone con meno 4 gradi era una canzone che partiva soltanto con la chitarra e Charleston della batteria e lì era veramente tosta perché appunto di fronte a questa proprio distesa sconfinata di teste che non vedevo nemmeno dove finivano mi trovavo io che non mi sentivo neanche le mani a fare a fare questo intro tra l'altro appunto un intro abbastanza abbastanza impegnativo e lì ho semplicemente dovuto chiudere gli occhi crederci però è andato tutto quanto bene quindi è stato ottimo e lì diciamo che è stata una delle prime emozioni però forse un elemento più gratificante anche è stato quando proprio all'interno del secondo music della seconda edizione di music mi sono trovato a fare la sigla di apertura con un pezzo dei Queen in cui nella solo ho avuto la mia camminata quindi con 5 milioni di telespettatori e il mio radiojack a fare la mia passarella con Vittorio Grigolo su Somebody to Love e quello devo dire è stato un momento dove sai dopo aver fatto tante tante esperienze di trasmissioni dove comunque sei parte di una band che o di un'orchestra insomma che magari è anche molto inquadrata ma è sempre nel suo lì mi sono trovato a vivere con piacere con grande soddisfazione anche questo momento della passarella in cui veniva data molta importanza la solo di chitarra visto che sono anche sempre meno è stata veramente una bomba di situazione mi ricordo il video l'avevi messo su Facebook esatto veramente veramente tanta roba cioè già la canzone parte bella avvantaggiata più il contesto sapevo forse che saresti arrivato a dirmi quel momento lì ma perché ripeto di aver visto quel video ho detto porca caccia la miseria non è un po' di spettatori davanti e ce li avevi in quel momento Riti sempre leggerezze avessi dovessi ricominciare a studiare tra i vari artisti tra i vari chitarristi conosciuti o meno chi è che vorresti come tua insegnante riccardo vertuzzi vorrebbe prendere lezioni di chitarra da allora ti dico questa cosa qua secondo me un musicista non dovrebbe mai smettere di studiare e di imparare e questo è un fatto e quello che succede è che magari nel tempo non sia più semplicemente un'unica guida quindi una persona che ci segui in un percorso specifico quella la vorrei nel senso che ognuno di noi secondo me può beneficiare di qualcuno che sia un coach che sia un cane pastore sì sì nel senso che anche soltanto per la diciamo la comodità e la bellezza di avere qualcuno che in qualche modo sia un pungolo e anche un contenitore e io devo dire ho avuto la soddisfazione di essere anche insegnante però appunto senza la pretesa di essere insegnante ma soltanto diciamo come dire un trainer in quel determinato periodo per turnisti già affermati già con tournée carriere ben consolidate e non farò nomi ma mi hanno comunque mi ha onorato il fatto che musicisti già molto solidi e molto preparati si rivolgessero a me io non riesco magari a dirti il nome di qualcuno con cui vorrei studiare facendo questo tipo di percorso però è chiaro che secondo me ognuno di noi può appunto beneficiare per cui chiaramente lo vorrei però è anche vero che ogni giorno guardando ascoltando un cd o vabbè ascoltando spotify a seconda forse suono un po' preistorico dire ascoltando ancora i cd ho anche le musiche a sette però anche soltanto guardando appunto video di altri musicisti trovo continue fonti di ispirazione per cui che sia un ragazzino che sia un vecchio di 70 anni ma non importa anche da musicisti che non siano chitarristi arriva sempre cioè vuol dire è chiaro che siamo costellati di fenomeni no? Corey Henry Jaco Collier ci sono ma anche cose meno mainstream ci sono tantissimi musicisti anche sotto traccia che sono incredibili e quindi anche senza volerlo anche soltanto ascoltandoli si percepisce qualcosa e si ha un pochino lo stimolo ad andare avanti certo grazie bellissimo anche questo bellissimo bravo però ecco non è escluso che prima o poi magari riesca a identificare quella persona e quindi dire guarda basta non voglio più pensarci io fatti fa bene portami portami in spalle esatto si si è per pigrizia però è la verità che non bisognerebbe mai star lì fermi a radagiarsi su quello che si sa già fare bravo grande Ricky beh questo è un messaggio che vale per il tuo mondo ma penso che valga per qualsiasi realtà lavorativa artistica o no sicuramente bisogna continuare ad essere aggiornati continuare ad imparare a rinnovarsi vedi anche l'ultimo periodo che ci ha costretto comunque a imparare mille cose nuove per comunque poter andare avanti esatto mai fermarsi Ricky siamo a quasi un'oretta e come dico sempre io rischio sempre di sforare e Instagram ha questa brutta bega che dopo un'ora ti caccia perché si stanca di vedere le dirette e quindi come da consuetudine del movie bar c'è la domanda redatta da Francesca l'altra nostra collega che ha questa fantasia incontenibile che sfoga anche facendo domande abbastanza particolari per gli ospiti e ne ho una su misura per te e ti devo ammettere ti è andata benissimo perché ho visto fare domande che io mi sarei veramente sotterrato piuttosto che dare una risposta te la faccio subito così rimane agli atti in questa puntata prima che Instagram ci butti fuori e la domanda è la seguente preferiresti avere la capacità di annusare la musica o di assaporarla guarda che ti è andata Ricky no liscia di più di più però la risposta deve essere bella sensata cazzuta e corta allora i profumi di solito proprio per per come si è sviluppato il nostro cervello i profumi sono legati a delle primissime esperienze di vita e di solito sono ancora più evocative dei gusti quindi a volte ci capita di sentire nell'aria un profumo e questo più di qualsiasi sapore ci teletrasporta in un'epoca del passato che neanche ci ricordavamo più razionalmente quindi essendo ancora più evocativa e quasi capito trascende proprio le decadi forse annusare perché è più intensa come esperienza ragazzo mio era semplice però l'hai proprio interpretata che mi è piaciuta qui viene qua il lato più psicologo quindi giusto Ricky del tuo percorso poi ti mando esatto esatto beh risposta risposta perfetta veramente che comunque ribadisco come ti dicevo prima proprio dimostra che tipologia di professionista sei che persona sei che oltre tecnica capacità strada fatta è proprio questo modo tuo di essere semplice profondo sulle cose che ti porta ad essere un pro con la P maiuscola grazie Ricky quindi uno ringrazio te che hai accettato tutto questo ricordo che verrà poi pubblicato su youtube e verrà pubblicato su facebook ringrazio chi ha seguito la puntata ho visto un po' di mani che salutavano un bel po' di gente che si connetteva sono arrivati vari saluti Ricky il movie bar sta piano piano prendendo forma fisicamente e spero che anche per una licenza di alcolici e analcolici di averla e quindi anche tu essendo abbastanza comodo sarai un ospite se ne avrai voglia fisico quindi verrai direttamente nei nostri studi adibiti a bar per fare una chiacchierata dal vivo così almeno casomai quella volta ti chiediamo portati via anche una chitarra che si fa una stripellata tutti quanti assieme con quello che io mi ricordo ma c'è c'è il bon look se avete la licenza per gli alcolici va bene ah ok segno come must must have Ricky abbiamo chiuso perfetti mancano 50 secondi e niente io ti saluto ti ringrazio ancora infinitamente è stato un piacere averti qui con noi super piacere mio Gio grazie ancora dell'invito e niente buona continuazione anche per tutte le prossime puntate grazie infinite Ricky un salutone gigantesco a prestissimo un abbracione grazie a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao